Ispirandosi alla citazione del premio Nobel per la letteratura Josef Brodsky, secondo il quale i parlamenti funzionerebbero in tutt'altro modo se prima di ogni seduta si recitasse una poesia. In occasione della Festa dell'Europa del 9 maggio, il Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano e il Südtiroler Kunstler Bund hanno promosso un concorso letterario per i giovani autori e autrici fino a 35 anni sul tema Europa. Tra le 71 proposte presentate nelle tre lingue provinciali, la giuria, composta da Ferruccio Delle Cave, Katrin Clozze e Ingrid Rungaldier, ne ha selezionate tre, tra loro molto diverse. Si tratta di Kleines Feuer für Paul Zellan, di Anna Kostner, una riflessione su Paul Zellan e Ingeborg Bachmann con inserimenti in altre lingue che richiama il patrimonio letterario europeo. L'Europa è il suo orizzonte di Elisa Caneve, che ha guardato l'Europa dalla prospettiva della torre di guardia del campo di concentramento di Birkenau, ed Europa in gespreche di Nadia Runger, la quale ha immaginato di trovarsi a colazione con la stessa Europa, confrontandosi con i suoi costumi e miti. Le tre autrici, ciascuna premiata con 2000 euro, hanno letto le loro produzioni in aula durante la sessione di maggio, ricevendo un omaggio floreale e il sentito applauso del plenum.